Bella a tutti ragazzi in questo nuovo video Siamo nella parte 9 della gang di GTA 5 Comunque scusate se Non faccio più video spesso E perchè per niente sono sempre solo Però ora è tornato Mattia A giocare Ora invitami nella modalità Comunque raga se volete scrivere con me Il mio numero è 387 87 87 55 55 500 miliardi 477 milioni Ah facciamo duello E No duello E Ho capito Ti invito io a attività No Avvio attività Sto cercando Suzo Fermo Ti aiuto pure io a cercare Ma tu devi guardare in ordine alfabetico Su ma quindi S Facciamo scia mortale Scia mortale è bellissimo Ok però dopo facciamo anche su Ti invito io a me di tutto Io facciamo quella con i tunnel Ah ok Cioè poi con che voce Hai detto facciamo quella con i tunnel Mi piace fare la voglia Mi piace fare la voce da bimbo Ti ha invitato Tu per un milione di euro Mi prenderesti like a tutti i video Su Ma certo Ah fuck Ah questa qui e quella che dobbiamo essere almeno in quattro Ho sbagliato Complimenti a Simone ragazzi Facciamo tutti i complimenti a Simone nei commenti Scrivetevi i commenti Allora create da Roxa Ah comp- Allora Modalità competizione Vado Ecco qua Vabbè Ma Ma cambia modalità Non vedo Ah ecco la scia mortale Non la vedo più Ecco la modalità Facciamo la scia mortale Vabbè facciamo questa qui Che è da due a quattro giocatori Io massico gomme per Le gomme Le massiche mi fanno diventare un pro player Mastro tutti i vabbababab Vittoria reale Hai fatto il visto il mio veicolo che ho modificato Della rana No Brava Vabbia Allora basta Metti pronto Iniziamo a modata La lancone La lancone è bello In realtà il colore più bello è il rosso Percato che non c'è Perché c'è? C'è anche il rosso No Ma vaffa 3 2 1 Via ma dove ci troviamo? Ah siamo in una Sento il ponte Il ponte delle missioni Io questo ponte lo chiamo il ponte delle missioni Perché io ogni volta qua ci faccio le missioni In questo punto Ah però ma quante vite sono? Eh sai Siccome conta anche la 07 Nooo Io ho turbo Io sono buono con il sasa Mmm Lloyd Come posso fare? Allora gravi Sei preso L'energia Non mi freghi Cavolo Come ho Mi chiede Ah che brutta zona Ah Tu hai brutta? Sì L'ho preso pure io Oh oh Cosa? Che è successo? Ok si è liberato Ero intrappolato Cioè morire per la stessa scia Vabbè Veramente però Cosa? Sono andato molto verso di te Piano piano Buono buono Mi sa che queste gomme Sono taroccate Sì le gomme Ora è colpa delle gomme Varo Sì è colpa anche tua Perché sei brutto Che c'è? Che c'è? Che c'è? Non uccide Che c'è? Che c'è? Tranquillo Tanto non morirai Per colpa mia Morirai da solo No Non li puoi consigliare Ok No Non sei bene Eh Dove è che la passola Mario Kart? Cosa? Devo portare a Mario Kart Devo portare anche il Jum 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 Cosa? Ok Ah Niente Jum Jum Nonononono Sì Que culo Shit Ok Ok Ora che le dia Via Via Stavo per fare Un fail pazzesco Ah io pure ero Rallentata per un attimo Allora siamo pari Siamo 4 a 4 Abbiamo tutte e due quattro vite Sì ci sono arrivato È dietro di me Oh no non ci incontrò Ok perfetto C'era un posto in cui potevo riterrare È giusto in quel posto Che c'era in quel posto Io È mio è mio è mio è mio è No no Prendetelo pure Tanto io mi prendo l'altro Torbo Non c'era sci No Ok ci ho fatto Ma hai messo pochissimo tempo Ah Ah perché il tuo appena sentato avviato Allora comunque ha vinto No ci sono tanti round Non c'è solo round Round per day Prossimo round Questo round andrà sicuramente a me Questo round Sicuramente andrà a me Io c'ho pure il colore Mi sono reso conto che ho il joystick Il colore del joystick arancione Come il colore del mio personaggio Però ora sarà cambiato Io ce l'ho tutto il tempo blu Perché il mio blu Io sono sversaggio blu Ah ok allora No ora è cambiato Com'è che ora è il rosa Era da tutto il tempo arancione Appena si è avviata la partita E' diventato così Che cosa ha fatto No ho fatto tipo una rampa Mi ha fatto saltare E stavo per la luce di passare Se non c'è che prima Mi ha perspettato indietro What? Vabbè comunque ti ho ucciso Lo stesso Che bello le moto Che passano davanti a casa mia Cosa ci serve a ridere Ole Siamo 4-6 Ole cosa? Ole Uno Due E tre Mattia non c'è più No perché dopo sto No Mattia non c'è più Perché dopo sta partita Non Il tuo nome non comparirà più In nessuna parte Cosa? What the fuck is that? Ah è saltato dalla rampa più alta Ho fatto un delay Beh Cosa volevi fare? Chiudersi Non mi hai chiuso infatti Come no? Dai! Sì T'ho chiuso Ho ancora due vite E se vinco con queste due vite? Cioè due vite Tre Eh tu ne sei E se io vinco? Ho due vite Posso ancora farcela Allora devo concentrarmi sulla mappa Buona Non guarda l'ansia No tanto mi è bastato guardare le vite Vabbè comunque Ho ancora due vite Tu ne hai ancora cinque Posso recuperare Perché 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 Spiegami perché Porco Su di te Sono Ti chiudi Dai Ma cosa? Ma ho saltato Ma ho saltato Non lo fai usare Lo salto Lo ho usato al momento Ho una vita Tre Due Ma basta Suicidarsi Personaggio Buona 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 Continua così Salto Alla capite voi We're the mountain It's a mess It's a mess It's a mess Non lo so Quindi siamo uguali Chi vince questo Vince tutto Quindi ma ti attraia Perché tanto fai schifo In questa modalità Ora attraia Oppure io Di smash it Come era la cantona It's my shit Everywhere It's my shit Ah Damn Freddo Stai ci certe fesce 3 3 2 1 Go Yes Yes Il turbo È mio Brutta Paglia Scordatelo Ok Ok Se vuoi prendere Doppia fuoco Turbo Sì Sì ciao cosa dai cancellati ok pure la tua sera si è tolta l'ultimo così mi ho preso il turbo non penso tu ovviamente vada sopra ma push mi ora cosa fai? sei incastrato sai? cosa? cosa? ah ci sono succedati a vicenda god almeno ma poi cosa è successo? non lo so non so come tu non sei morto per la mia scia non ho male di qui mi ha fatto una strategia enorme sono passato tipo buchi piccolissimi per andare davanti a te crocatea di che il turbo non ti servirà io ho potuto sprecare il salto ok c'è una piccola curva dai ma siamo uguali allora eh così chi vince sì cosa? ho saltato la tua scia ok e ora che cosa farrai? oh bene mi ha morto solo il personaggio cioè io stavo camminando ed è morto però così wow mi piaceva più camminare quindi ha detto no vabbè mi suicido così almeno non cammino più che poi camminare ma siamo sempre tre 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 così chi vince? nessuno non può vincere nessuno che cosa ho fatto signori? ti devo eliminare in qualche modo ma tu hai qualche abilità mi devo sapere per un minuto come? perchè? perchè per un minuto finisce buono va 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 io mi incastro sai fai non ci voglio più ah siamo due a due chi vincerà? tu io che siamo sempre uguali essi noi voi essi loro chi essi ma con quello cosa hai fatto? mi ha andato mi ha andato ce l'avevo messo al minuto no sì no sì cosa? sì comunque ho vinto no dai il turbo non è ancora detta l'ultima parola ho vinto ho vinto che schifo che fai sì ma chi sei nì? mangiiamo una straricola no che cagata che fai schifo perchè? perchè? perchè fai schifo per tutto se respiri fai schifo io voglio sapere che è così così facciamo una partita veloce facciamo una partita veloce facciamo l'ultima sia mortale poi fai un altro video e fai come si chiama? non lo spoilerare fai un altro minigioco con le macchine no un altro no facciamo tutto in un video e basta ok ma non so se ci basta dipende ah perchè? quanto quanto ci vuole vabbè mettili più minuti non cinque minuti dobbiamo essere in quattro per avviarla e allora andiamo a fare subito quella ah che cosa? gli erano due scelte gara sumo sumo te pareva facciamo anche un po' di missioni al tè robot facciamo tre round cosa? e cosa ti piace? io missioni voglio fare io voglio fare qualche minigioco con le macchine ti invito io a su sumo no l'erricola è caduta bug allora avvia attività create da rockstar da età competizione cos'è caccia il bombusca? fa schifo vieni a giocare condannati oltre alla linea oltre alla linea raid all'alba scia mortale duell'aereo lo colpi e via istruzione caccia all'uomo asta alla vista velocità remix velocità esplosiva passo dopo passo ciao ciao guarnaut mantieni il mastro d'armi guerra guerra territoriale voglio vedere le regole sono semplici se non prendi se non prendi ciò che è tuo vuoi fare un'altra malattia? si chiama guerra territoriale che c'è? che c'è? ti invito me l'assumo però no 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 prima faccio un'altra modalità poi la facciamo questa è un'altra modalità guerra territoriale si chiama poi la facciamo poi SUMO dopo ti ho detto spero per te devo dire che c'è perché mi carica ok mi ha appena finito di caricare facciamo SUMO ti invito no vabbè vai SUMO è più bella di quella territoriale ma ma ancora hai provata lo stesso ma che deficienti che siete tu e francesco grazie invitami abbiattività grazie da rockstar e SUMO è una modalità competizione non lo so prova a vedere credo che sia last team standing no non penso SUMO 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 stella libera gioia SUMO 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 BESTAAAAAAA non trovo SUMO non trovo SUMO non trovo SUMO non trovo SUMO set di potere power play secondo che aiutare Guata, aia! Ma sei ancora meglio? Sì! Io non ho giustato... Invitami e bossa! È stato un frattempo qui a casa. Invitami e bossa. Ok. Intanto, gli alieni verdi. Ma in una sessione? Ah, mi ha invitato al party nell'attività. Su, ma tu hai invitato delle... Come si... Numero di squadre? Due, perché noi siamo due. Metti tre. Mettiamo entro squadre, no. Prima... Sì, e poi sì, gli altri che cacchino. Prima a vincere. Quattro round. No, quattro round no. Quattro visuale! Prima persona. Classe veicoli. Super, sub, fuoristrada... Metti super, super. Ok. Avvio. Ma c'è anche questo qua sportivo in classe? No, ma... Devo levare la radio, aspetta. Ok. Avvio ora. E... Gioca. Let's go! Let's go with play a Mario. Quindi in questo video faremo solo modalità? Sì! Ah, veicolo... G1, va... Eh, va bene. Non è difficile. Quando c'è il veicolo... XA... XA21. Sembra XA... XA12. Metti pronto quando sei pronto. Metti pronto quando sei pronto. No, io non sono pronto. Questa qua, XA21 mi ispira. Se fa schifo, io veramente... Io mi sono fidato di questa macchina, quindi deve essere bella. È bella. Un pochino. Cioè, sì. Abbastanza. La mia è una sorta di T20. Guarda... Guarda tu, com'è. Ti vengo a prendere! No, l'aria è mia! E io ti sto passata sotto. Eh, io ti sto passata sotto. E qua c'è... La sbettiamo? Vabbè, qua non vince nessuno. Rimaniamo anche fermi. Cosa vuoi fare? Come mi spingi? Ma vanno mai tu mi spingi? Ma ti spingo io. Andiamo. La mia è velocissima auto. Conta la potenza. Volevi. No! Bravo! Cosa, bravo? Io ci sto... Ah, sono uscito fuori per un secondo. Faccio una cosa figa! Cosa? Non penso che riuscirà! Penso di morirci! Mammina! Sto fruando! Vabbè, io in qualunque caso ti aspetto. Aia! Eccomi! Ciao! Ero proprio in punta. Ma... Non si capisce perché è tutta un'illusione ottica. Esatto! Perché spuntano sempre più buchi! Non si capisce! No, 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 no! Sìì! Sìì! va bene e abbiamo vinto di no tutti e due io inizio ad andare nel prossimo non c'è la macchia stavolta sto troppo lento e invece si no si va nel mio sbattolo no 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 si no corri dai minuscolissimo non capisco dove sono i buchi ok qua si capisce non è più no quanto è piccolo non me lo dire fai u bici nini esci esci devi stare fuori tu devi stare fuori chi ha vinto eh no matti questo qua deve essere il finale altrimenti niente cioè o finisce ora oppure non finirà mai ora Aspetta, dopo Dopo Aspetta Matti, ma ero stato fuori, va Dio Cioè, ero fuori All'ultimo seconda Io ero praticamente quasi tutto fuori E un pezzettino dentro No, e ora non mi dà quanto è piccolo Abbastanza Tanto tu credi che io ti vado incontro No ora una macchina sola Ora una macchina sola ci entra Qua ne matti O ci stai tu o ci sto io Qua Non si può più andare avanti Qua solo una macchina ci entra Magari c'entrano tutte e due No poi non c'è un po' che tipo non c'è più Ma come sta finendo il tempo Aspetta Ti aspetta no ora no non posso ora Va bene non posso Io sono stupido che non mi vedo in buco grande Qua in zona casa E ho vinto Così Io sono stupido che non mi vedo in buco A me la quant'era piccolo l'hai visto Sì Forse non c'è neanche una macchina C'erciata Come? Era tipo un pisellino Proprio quelli dei nomati No quello del giardino Quello che tu coltivi Ma dove sei tu? Bello Già all'inizio Ho perso pure vita Li facciamo di nuovo Mettiti tu al confine della bolla Ok io all'altro confine ci scontriamo Pronto? Vai Non ha funzionato No prima mi ha tolto anche vita Quanto ci siamo scontrati Vieventemente Bravo sta fuori No capite il gioco Geniatto Ma quindi io devo vincere altri due round Per poter vincere No 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 Sì 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 Stiamo andando nel mare E vai nel mare Ci sono i pesce Tutto bello Fate una notata Ma così cosa facciamo? Eh volevi Se ne credi Price Bello GG Ma tu a chi trolli Ma tu trolli a te stesso Tu ti trolli da solo Esatto Perché sei appunto un troll Ma va Ma non so se è un insulto Niente più Perfetto I want to sleep So high Già a quanto tempo stiamo? Non so un po' Non l'ho visto E comunque è una cosa Matti Ti devo dire Siamo 2 a 0 Quindi se vinco io questo Ho vinto tutto Quindi tu devi vincere Due round consecutivi Altrimenti Altrimenti ho vinto io Quindi capite Devi vincere tutte e due Quindi tra yarda Intanto come prima Mi voglio andare a scontrare Contro di te Boom Stai dentro Cioè stai fuori Bravo Va bene Alla prima è impossibile Già perdere Vabbè tanto io non devo fare niente Poi mori da solo Ma Ma No 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 Che tampono Esci E quindi Ecco Ecco come si è formato il Big Bang Due meteoriti si sono guardati E ne ha detto Faresci E gli sei andato a scontrare A miliardo Allora GG 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 Come round Ma non erano 4 Eh Eh Gli ho vinti 3 Eh Eh Ho vinto Perché tu ora hai solo un round da recuperare Ah ma il primo vincere deve fare 4 round O deve raggiungere 4 round Non lo so Penso che Deve fare No perché se erano 4 round già avrei vinto perché tu hai solo ora un round per recuperare Vado a vedere Mi vado a suicidare così mi chiedo Allora vediamo Obbligo o verità resci Fa resci Dretto per dritto C'è il mazzo Questa bolla resci C'è il mazzo Ti senti Ti sei tolto vita Ho vietato la macchina rotta già all'inizio Facciamo il giro al giro tondo Ok Giro Giro Tondo E tutti fuori dal cerchio This is This is Matteo Vai tamponami Obbligo o verità resci Io scelgo fare resci Questo mattia resci Non riesce a farmi uscire dal faresci Di quel buco Di quel buco Di quel buco farescioso Allora se vengo questo round ho vinto tutto Quindi io rimango qua Bello camperato Per un attimo sentite il mio collo che si era bloccato Non respiravo più Tu lo sapevi che se ti scrocchi le dita fra un giorno non avrai più Una gamba L'ho fatta io questa scoperta Lo so che sono il più intelligente Giro 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 Tondo cascari Mondo Stai fuori dalla piattaforma che devo vincere Tu se vuoi fai trick così poi muori Tu se vuoi fai trick così poi muori Ma secondo te dopo sto Dopo questo round Posso terminare il video Perché sta durando un po' troppo Allora No ma tu devi contare quanto dura sta modalità Quanto era il tempo? Non l'ho visto Due minuti manco Ah ma qualcuno Sì ma all'inizio Quanti erano i minuti? Sei Ah quindi sei Con l'altro round dodici sono già Diciotto minuti Più l'altra modalità quanto tempo è passato Ma poi La modalità avevamo fatto prima Che modalità era? C'è mortale Ah Vabbè quello lì è durato tipo dieci minuti Qua ne sono passati un po' tipo mezz'ora Io direi che dopo questo Che dopo questo round possiamo chiudere il video Comunque è bello Tu fai trick mortali Che poi come dice Nome mortali Così poi tu muori Comunque grazie Ho salvato pure a me che sto per cadere Ho vinto E ho vinto Partita vincitor Vabbè raga Il video Lo concludo qui E ci vediamo nella prossima parte Ciao 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 Grazie a tutti